cari amici di live channel buongiorno il testo di questa mattina si trova in efesini 5 versetto 19 e dice parlando a voi stessi con salmi inni e cantici spirituali cantando e salmeggiando nel vostro cuore al signore nella bibbia ci sono tanti versetti così qua paolo sta dando alla chiesa tanti consigli e uno di questi consigli è di parlare con salmi e cantici spirituali cantando e salmeggiando nel cuore sempre al signore e io mi ricordo che anche nella bibbia c'è questo versetto che dice che che il cuore allegre è come buona medicina e anche un altro consiglio di paolo dicendo rallegratevi del continuo nel signore è come anche un ordine quasi diciamo è un consiglio pesante e io stavo pensando che qualcuno può pensare anche io ho pensato è carina come idea però come si fa a parlare al rallegrarsi continualmente nel signore quando qualcuno ti quando arrivano dei problemi come facciamo a parlare e con con salmi e inni e cantici spirituali come possiamo fare questo sarebbe possibile beh la bibbia non ci dice non ci dice niente di impossibile per questo ho pensato quando sono arrivata a questi tipi di versetti ho chiesto a dio di aiutarmi questo nella mia esperienza ho provato che si è difficile a volte fare questo però però esiste un modo e questo è un cambiamento di pensiero totalmente un pensiero nuovo e questo mi ha fatto mi ha fatto pensare che se dio è amore se so che dio è amore se so che dio è potente se so che dio è saggio che quello che lui fa o che lui sa e quello vuole è sempre il migliore se lui è un dio personale che prendi cura di me quando arrivano dei problemi devo pensare che sono sono cattivi oppure che sono sono per il bene devo pensare che tutto quanto accade è per il bene di quelle che amano dio perché sì quando si pensa così quando si pensa che dio è amore è saggio tutto quanto lui fa è il migliore possiamo cambiare idea possiamo quando uno ci ci parla male possiamo pensare nell'altro e noi noi avere pietà dell'altro e non di noi possiamo pensare povera persona perché non può essere felice così poverino che non può avere la gioia e la pace di avere cristo nel cuore quando fa una cosa del genere perché soltanto quelli che hanno gesù nel cuore hanno la gioia vera quindi possiamo pensare ad altri e non invece di pensare a noi possiamo pensare che gesù chi ci ama tanto ci insegna quindi le difficoltà della vita sono insegnamenti per con per lavorare nel nostro cuore nella nostra mente nel nostro carattere per essere più in grado di fare un qualcos'altro che senza di questo non saremo in grado quindi parlando a questo modo o chiedendo a dio di essere cambiata dio mi sta aiutando ogni giorno a cambiare questo modo di pensare a pensare così in un dio così così pieno d'amore così saggio così chi prende sempre quello di noi che che tutto quanto che accade è per il bene e con questo tipo di pensiero è sì possibile parlare sempre con i con salmi con cantici spirituali cantando e salmeggiando nel cuore sempre al signore e questi canti quando abbiamo nel nostro cuore questi canti e li cantiamo tutta la giornata su questo su quel su quell'altro questo ha su di noi e sugli altri che sono accanto noi un'influenza un'influenza per bene possiamo sentire dio più vicino possiamo prendere con gioia le cose normali e ho le cose anche difficili e così io può agire nel cuore e stare sempre nel nostro nel nostro nel nostro pensiero e ti con questa esperienza c'è anche il versetto 20 che volevo leggere che si dice rendendo continuamente grazie per ogni cosa a dio e padre nel nome del signor nostro gesù cristo allora con questo con questo con questi versetti volevo fare invitarvi a fare la stessa cosa a chiedere a dio di cambiare il pensiero di cambiare tutto quanto riguarda la nostra vita per poter essere più felice noi stessi e rendere più felice gli altri al nostro che sono accanto noi quindi vorrei invitarne a una preghiera caro padre nel cielo grazie signore per tutto quanto ci dai grazie grazie perché tu sei un dio talmente pieno d'amore talmente saggio talmente personale che possiamo avere fiducia che tutto quanto accade è per il bene di quelle che ti amano grazie per la possibilità di essere cambiati di avere nostri menti e cuori custoditi dalla pace che hai promesso e della dalla gioia della salvezza ti vogliamo chiedere di aiutarci a avere sempre un canto nel cuore un canto di gioia un canto di di lode a te per farci più felice per fare altri più felici perché possiamo essere benedizione nella terra nel nome di gesù amè